Sarà una guerra USA-Russia o una guerra Vladimir contro Elon? Ne parliamo insieme. Sigla! Ciao a tutte le videomatrici e videomatori di Senza Fisso Dimore e benvenuti in questo nuovo video. Viviamo un'epoca veramente fantastica, veramente ricca di notizie, veramente incredibile, surreale. Non so più neanche io come definirla. Infatti il distaccamento tra i media, tra l'informazione, tra la propaganda che ci propinano giornalmente e i fatti reali è inverosimile. È notizia di pochi giorni fa che 50 satelliti della costellazione di SpaceX, così viene chiamata, praticamente tutti i satelliti che SpaceX metterà, ha messo e mette in orbita per attuare il piano di avere internet ovunque nel pianeta, ben 50 di questi satelliti hanno perso la loro quota e finiranno distrutti in pochi giorni. Le organizzazioni ambientaliste si preoccupano che non ci caschi niente in testa, ma non capiscono assolutamente nulla di quello che sta succedendo nella realtà. Sono esattamente lì per farci guardare il dito e non la luna. Infatti nello stesso periodo la Russia comincia a parlare dell'intenzione che ha, in caso che ci sia un escalation in Ucraina, che quindi la guerra tra la NATO e la Russia si faccia più reale, la sua intenzione è quella di tagliare i cavi di internet a largo dell'Irlanda, tra l'Islanda e l'Irlanda. Da una parte abbiamo 50 satelliti che casualmente vengono giù. Vi ricordo che solo pochi mesi fa Putin ha chiaramente messo alla luce del sole che certi colossi privati che vanno a emettere satelliti in uno spazio che dovrebbe essere regolamentato, ma che non lo è per nulla, che è aperto al commercio in una maniera totalmente insensata, proprio Putin mise un po' i puntini sulle I, lanciando un missile anti-satellite proprio nella zona in cui poche settimane prima l'impresa privata di SpaceX e quella di Elon Musk aveva messo in orbita centinaia di satelliti che arrivano ad oggi a migliaia di satelliti. Infatti il piano finale sarebbe quello di una cifra esorbitante come 12.000 satelliti, ma dall'altra parte del mondo Cina e Russia non sembrano per niente d'accordo. La narrazione però vuole che questi 50 satelliti siano caduti per una tempesta solare. Infatti pensate un po' che una impresa come quella di Elon Musk che mette in circolo questi satelliti non ha, secondo quello che dicono e che ci raccontano in giornale, minimamente pensato che al di fuori dell'atmosfera una piccola tempesta solare possa danneggiare i satelliti. Pensate un po' come sono ingenui questi progettisti. Da mio parere la causa è molto chiara, li hanno tirati giù e chi li ha tirati giù è altrettanto chiaro per chi vuol capire. La situazione geopolitica globale è tutta concentrata nel commercio, è tutta concentrata nel comperare e la minaccia che si deve scongiurare è semplicemente questa. Nello stesso tempo abbiamo 6 milioni di francesi che perdono il loro passepartout. Il numero dei forati è in picchiata, è in caduta libera, proprio come i satelliti di Elon Musk. Sarà anche lì colpa delle tempeste solari. Sono due anni infatti che i media ci raccontano delle balle spaziali, censurando fior fior di esperti e di scienziati e facendo parlare fior fior di idioti e di giornalisti. Ciò che ne risulta è che una parte consistente di persone ancora crede che sia una minaccia alla Russia perché dichiara due regioni dell'Ucraina come indipendenti. È infatti il risultato che Vladimir dice la verità, ma che la verità non piace per niente alle borse, che sono anch'esse in caduta libera come i satelliti di Elon. Ha detto che bizzarramente ci sono sempre più notizie di fuga di azionisti da grandi gruppi farmaceutici. Sembrerebbe infatti che qualcuno ha fatto la spia. Cioè molte persone in posti dirigenziali di queste ditte stanno vendendo le proprie azioni, ma vendendo milioni di euro di proprie azioni. Azioni che nell'ultimo due anni hanno acquisito delle grandissime percentuali di guadagno, quindi hanno fatto contenti molti gruppi speculativi che adesso tirano un po' i remi in barca. Che ci sia una previsione di un crack a breve termine può darsi. Che i piani dell'elite della dittatura farmaceutica e tecnologica e economica globale si stiano rendendo conto che non riusciranno a fare quello che si erano predisposti può darsi. Quello che sta succedendo però in maniera chiara è che si sente già il rumore degli elicotteri girare. Come si diceva una volta sono tutti pronti a darsela a gambe e chiaramente con le valigie piene di dollari. Grazie a tutti per essere restati con me. Vi invito come al solito a mettere un pollicione in su, a condividere il video e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie a tutti per le donazioni che mi fate, che mi motivano a continuare questo lavoro giornaliero in maniera sempre più costante e aumentando la qualità e la quantità dei video. Grazie ancora a tutti e al prossimo. Ciao